Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi ci andiamo a studiare, purtroppo devo dire, Atalanta-Roma. Perché purtroppo? Perché è il big match di domani, poi c'è Milan-Napoli che studieremo appunto domani, perché almeno facciamo passare un po' di tempo e le quote si muovono un po' di più, mentre stasera studiamo Atalanta-Roma, purtroppo perché purtroppo c'ho paura che ci fanno il cappottone. Cioè, come si dice a Roma, il cappottone c'è il rischio che l'Atalanta ci travolga, perché comunque in sto momento la Roma non sta giocando bene, anche dopo la vittoria con lo Spezia possiamo dirlo. Non è stata una bellissima partita, l'Atalanta va a 10.000 all'ora e quindi giustamente cerca di fare questo piccolo miracolo della vittoria dello Scudetto eventualmente e quindi niente, un po' preoccupa, un po' preoccupa da tifoso della Roma il fatto di andare a Bergamo. Vediamo con che numeri andremo a Bergamo, lo vediamo subito dopo. la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Prima di entrare nel superfoglio vi ricordo che ci sono le offerte di Natale fino al... vediamo un attimo, che non me lo ricordo... per altri 8 giorni, fino a Natale. c'è una buona adesione ai pacchetti, ne sono rimasti comunque 68, che è un buon numero, insomma, non credo che finiranno, però diciamo che in due giorni mi ritengo soddisfatto, sta andando piuttosto bene. Allora, andiamoci a prendere il superfoglio. Tra poco, tra l'altro, comincia la giornata di Serie A tra Lazio e Genoa. Ma se non hai visto il video, c'è prima di questo il video con tutte le altre partite di Serie A. Manca Atalanta-Genoa, Atalanta-Roma, che vediamo adesso. E poi domani faccio il big match di domenica, Milan-Napoli. Allora, Atalanta-Roma. Io l'ho già studiata un pochino per capire come stava andando la situazione, anche in ottica fantacalcio, perché io cerco di utilizzare il superfoglio in base agli attaccanti e ai portieri che ho, per vedere come va la situazione, e quest'anno ho avuto la sventura di comprarmi Abram. Abram, che nelle prime due giornate, tre giornate, sembrava un mostro assoluto, quindi io sono una ola, l'ho comprato come un allocco, e invece è una pippa. Cioè, insegna manco ad ammazzarlo. E infatti, contro l'Atalanta, anche un po' per scaramanzia, l'ho messo come ultimo panchinaro. Vediamo se mi farà pentire oppure no. Per il momento, per quello che ci dicono i numeri, ni. Nel senso che c'è la Formula 4 in questo momento, proprio piena, classica Formula 4, perché tutte e due stanno perfettamente in quota 4. Lui ci suggerisce anche l'over 1,5, perché l'evento che si verifica di più di tutti, in assoluto, con la Formula 4, è l'over 1,5. Il secondo evento è il gol della sfavorita, che è il gol della Roma. Però, per il resto, gli altri numeri sono abbastanza a favore dell'Atalanta, che viene da cinque vittorie consecutive. Terza in classifica, in casa, stranamente, ha fatto un ruolino un pochino inferiore rispetto alle aspettative. Tre pareggi, due sconfitte. La Roma, in trasferta, è vero che fa tre vittorie, però è pure vero che prende cinque pappine, cinque sconfitte, di cui alcune, come magari questa col Bologna, insomma, anche abbastanza evitabili. Perciò, che ci sia possibilità dell'esito 1 è abbastanza scontato. In ottica, Formula 4, non mi dispiace questo esito gol, anche se l'allibramento lo dobbiamo registrare al momento viola. Vediamo un'ultima cosa sull'over 2,5. Anche in questo caso c'è all'allibramento viola e in linea. Allora, qui c'è questo piccolo rialzo, qui l'allibramento invece è completamente, proprio perfettamente in linea con quello della quota reale allibrata, quindi molto interessante. Come lo interpreti un dato del genere? Secondo me lo interpreti con il fatto che è come se il bookmaker ti dicesse se la matematica del campo non viene stravolta dai venti che possono essere un'espulsione nei primi minuti, nel primo tempo, un infortunio particolarmente importante. Per esempio, stasera la Lazio manca immobile e quindi penso che farà qualche fatica in più contro il Genoa. Quindi il bookmaker ti dice se la matematica del campo sarà rispettata è probabilmente una partita da over e in effetti Atalanta-Roma hanno sempre fatto vedere partite da over. Quindi su una situazione di questo genere il lievissimo rialzo del gol over in linea perfetto io solitamente, anche per avere una quota un po' più intrigante, sceglierei il multigol 2-4. Quindi come tipologia di partita mi dà l'idea che ci possano essere sicuramente più di qualche gol, non mi immaginerei una caterva di gol perché spero che andiamo lì a fare insomma una partita attenta difensivamente un po' più combattuta di altre in cui la Roma è stata abbastanza arrendevole. Quello che è interessante è vedere come dal multigol 1-3 al multigol 3-5 ci sia una veramente incredibile parità quasi. Uno va al 57,9 uno a 57,3 e un altro a 52,5 qual è l'elemento che rientra in tutti e tre? Secondo me sono i tre gol perché ce l'abbiamo qui fino al terzo gol qui è il gol di mezzo e qua il terzo gol praticamente il terzo gol c'è in più del 50% delle opportunità perciò ritorna anche buono quell'over 2,5 che abbiamo visto prima o multigol 2-4 o over 2,5 sulla 1-x2 diventa più difficile però io andrei sulla 1-x cioè penso che ecco per esempio penso per esempio che non sono d'accordo con questi risultati qua magari 4-0 spero di no 3-0 mi sembra troppo penserei più a un 2-0 2-1 anzi più che 2-0 2-1 per l'Atalanta forse 3-1 per l'Atalanta non lo so io poi la Roma la sbaglio molto molto spesso perché sono sempre molto critico e vado sempre a preferire dare punteggi agli avversari così poi se la Roma fa qualcosa di buono sono contento quindi diciamo che 3-1 potrebbe essere un risultato che ci sta e sta abbastanza dentro a tutto quello che abbiamo visto sui multigall altrimenti altro risultato che secondo me può esserci è il 2-1 mi terrei o il 2-1 o il 3-1 se proprio la dobbiamo chiudere con un risultato esatto direi 2-1 altrimenti giocata che per quello che è la configurazione attuale ci può stare secondo me è l'over primo tempo e accenderei un over 2.5 perché credo che la partita lo consenta mi ha interessato quell'aspetto dei tre multigall che tutti e tre stavano sopra il 50% ma tutti e tre vicini quindi abbastanza indicativo del fatto che il terzo gol lo dovremmo aver visto più cautelato è il 2-4 ovviamente altrimenti Atalanta-Roma temo che potrà finire 2-1 per l'Atalanta per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video